Non più caserma, ma scuola e centro direzionale. Dopo la dismissione della caserma Francesco Rossi e il trasferimento del nono reggimento alpini alla Pasquali, che abbia volto completamente un'area immensa che potrebbe divenire polo culturale e direzionale. L'idea del comune del resto è sempre stata quella di creare lì un polo scolastico, con scuole superiori, l'alberghiero, il convitto e parte della biblioteca provinciale, oggi a Bazzano. Operazione questa da 100 milioni di euro, che porterà in quell'area 9.000 studenti e in 20.000 metri quadri anche uffici già richiesti dall'Agenzia del territorio. Potremmo utilizzare, portando lì anche, è una proposta che faccio e della quale parleremo, il convitto nazionale, che avrebbe la comodità di essere in un posto dove i ragazzi hanno tutte le strutture per il passatempo e così via e sarebbero a fianco alle scuole, quindi in una struttura molto moderna, funzionale, aggiustata al meglio. Del futuro della Caserma Rossi si parla ormai da tempo, numerose le riunioni a Roma, ma è ormai cosa fatta, in quanto sono già sette i ministeri che con il comune dell'Aquila hanno sottoscritto l'accordo per avere l'area che prima era del demanio militare in maniera gratuita. Un progetto, questo fortemente voluto dal primo cittadino Massimo Cialente, che sarà realizzato, dice, con fondi per la ricostruzione scolastica, con altri provenienti dal Ministero per gli edifici pubblici e da parte dei due miliardi il per la ricostruzione. Che il Sindaco Cialente vorrebbe dirottare su questa idea, senz'altro un'idea che permetterebbe la razionalizzazione delle risorse anche dal punto di vista logistico. Alla fine del mese avrò un incontro a Pescara. Adesso, finita questa intervista, devo telefonare al direttore regionale, l'agenzia del demanio. Si sta definendo, nell'incontro che ho avuto con il ministro Roberto Pinotti, abbiamo concluso l'accordo per la Campomizia, per cui posso tranquillizzare tutti e siamo andati avanti su questo. Grazie. Grazie.